Che fai? No, te li vuoi il suo patto. Devi rimanere con il pano quando mangiare. Bambola, non la tenivi? No, non la tenia la bambola. Quelli tenivano i soldi che si affattava la bambola. Quelli con la mamma che si affattava la bambola. E' venuti. Tenivano la bambola. E poi si sta buona. Quella volta venivano a cattare la vestita, dovevano mettere un cuore. Poi cattavano la bambola. E' solo la bambola. Non sapevano la bambola. E chi giocavi? Io giocavo la bambola. Io mi ero piccolo. Facciamo il prete e giocavo la bambola. E' quello che facevi. Non si è mai shifting. E poi! Oddio! Oddio!